Dalle prime luci dell'alba, su delega della Procura della Repubblica di Roma e carabinieri del Comando Provinciale di Roma nella provincia di Napoli, supportati dai comandi dell'Arma Territoriale competenti, hanno dato esecuzione all'ordinanza che dispone misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di 17 persone, 7 in caccia e 10 agli arresti domiciliari, di cui 13 gravemente indiziate gli appartenerano sotto alizio criminale dedito a truffe e distorsioni in danno di anziani e gli altri 4 di aver avuto un ruolo dell'esecuzione dei colpi. Come riscontro nel corso dell'attività di indagini, i carabinieri hanno inoltre eseguito 10 arresti in fragranza di reato per truffe consumate a Roma in danno di anziani, con contestuale recupero e restituzione della rifurtiva. Le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziali in ordine all'esistenza di un'associazione per delinquere, avente sede a Napoli e capeggiata dai membri di una specifica famiglia, dedita alla commissione di una serie indeterminate di reati in danno di persone anziane dimoranti in Roma e nel Lazio, ma anche in altre regioni italiane, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine a 80 episodi consumati nei province di Roma, Napoli, Latina e Viterbo, nell'arco temporale tra il 13 settembre 2022 e 20 marzo 2023. Fingendosi impiegato delle poste, assicuratore, avvocato o carabinieri, il telefonista diceva che un familiare doveva saldare il debito per ritirare un pacco o che aveva provocato un incidente stradale, che l'assicurazione era scaduta e che per sistemare le cose era necessario consegnare denaro a gioielli. In seguito un complice passava a prelevarli a casa delle vittime che solo ore dopo, parlando con il figlio o il nipote in questione, scoprivano il raggio. Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Trionfale hanno consentito di raccogliere elementi indiziali in ordine al ruolo di tutti gli indagati che in varie batterie composte da due persone partivano tutti i giorni da Napoli con auto prese a noleggio. Le vittime venivano scelte casualmente tramite ricerche fatte in internet o sulle pagine bianche, contattate da telefonisti e poi raggiunte da corrieri. Nel corso delle perquisizioni tuttora in corso, i carabinieri hanno rinvenuto anche un manuale di istruzione con una dettagliata descrizione delle cose che il telefonista doveva dire alle vittime per compiere le truffe oltre al denaro contante, centinaia di schede telefoniche, decine di telefoni cellulari e un grosso quantitativo di gioielli. Si precisa che il procedimento nella fase delle indagini preliminari per cui gli indagati sono a ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.